Buongiorno, buon martedì 4 agosto. Si apre l'edicola di 696 TV 8 Channel. Abbiamo selezionato per voi le principali notizie in arrivo dai quotidiani cartacei e anche dal mondo dell'informazione via web con il portale 8pagine.it. Ma partiamo subito con la consultazione dello storico quotidiano Il Roma. Il Roma quindi con un'apertura che vediamo appunto l'apertura del Roma del quotidiano di oggi. Giù i contagi resta la paura, 4 casi in campagna. C'è uno stagista del comune di Pozzuoli. Intanto c'è il terzo decesso in una settimana. È una donna casertana di 73 anni. Vedremo appunto qual è anche la teoria del contagio che potrebbe essere avvenuto tramite l'abbadante che arrivava dall'estero. Taglio alto, vediamo appunto qual è il taglio alto. Lesione al tendine, insigne in forte dubbio. Quindi si parla di quelle che sono le prime grane per il club degli azzurri. E poi l'emorragia in cella per il boss via all'inchiesta della procura. Caso Petrone, indagine sui medici di Poggio Reale. Quindi davvero l'inferno di Poggio Reale. Si torna a parlare di quella che è anche l'assistenza sanitaria presunta, assistenza a male a sanità, appunto all'interno del carcere di Poggio Reale. Ma andiamo all'interno del Roma e vediamo proprio il tema dei Covid Center. Focus sul maxi appalto, un vero e proprio terremoto. Quello scattato all'interno della sanità campana. Nel mirino, il numero uno dell'Asda Napoli 1, Ciro Verdo Oliva. Ma intanto la gara di 18 milioni per la costruzione di tre ospedali modulari all'esame dei PM. Indagato anche il presidente della Soresa, Corrado Cucurullo, oggi sit-in di Campo Sud. Un vero e proprio terremoto. Si indaga su come siano stati svolti gli appalti dedicati ai Covid Center. Appunto tre ospedali modulari su cui la procura vuole vederci chiaro sull'affidamento delle gare d'appalto. Intanto spunta anche il nome del consigliere Cascone che viene difeso a spadatratta dal sindaco di Salerno, Napoli. Vediamo. L'inchiesta del Tribunale di Napoli sulla realizzazione degli ospedali Covid in Campania e la conseguente indagine perturbativa ad Asta arriva come un terremoto anche a Salerno. Tra gli indagati eccellenti c'è infatti il consigliere regionale Luca Cascone, in passato assessore della giunta comunale guidata dal governatore Vincenzo De Luca, all'epoca sindaco poi eletto nella maggioranza in consiglio regionale che sostiene il presidente. Sequestrati PC e telefonino al consigliere Salernitano, la procura partenopea sarebbe alla ricerca delle mail che testimonierebbero. Il suo ruolo di mediatore tra le ditte fornitrici dei centri modulari e la soresa. Nel mirino il presunto ruolo di facilitatore, nell'acquisto di guanti, mascherini e apparecchi sanitari senza la qualifica. Cascone ha rivendicato la correttezza del proprio operato in un momento di piena emergenza, durante il quale operò come volontario nell'unità di crisi, pronto a difenderlo anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Io conosco bene il consigliere Cascone e sono pronto a scommettere i miei scarsi averi sul fatto che non c'entra niente. È una persona di assoluta moralità, una persona per bene, un gentiluomo, molto attivo. È una persona che si accorcia le maniche e si dà da fare. Credo che questo non sia il caso che possa spingere a comportamenti sbagliati. Lui è stato per bene, perfetto. Mi auguro che la magistratura nella quale noi abbiamo fiducia faccia presto però. L'opposizione intanto va all'attacco. Vediamo il commento di Tajani che ovviamente chiede subito l'opposizione del commissariamento di De Luca, Forza Italia, Tajani. Con lui la sanità è arrivata al collasso. Il Covid-19 ha portato alla luce il disastro sanità. Non c'è soltanto l'indice RT superiore a quello della Lombardia ma anche il caos sugli ospedali. Lo scrive su Twitter il vicepresidente di Forza Italia. Andiamo avanti, continuiamo a sfogliare in Roma. Calano i contagi, un altro morto infetto un napoletano stagista nel comune di Pozzuoli. La vittima è una 73enne del casertano, un caso anche a Barano Dischi e Ponte Cagnano. Un fiorentino intercettato intanto dall'asla di Caserta. Quindi questa è la situazione delle infezioni, dei contagi in Campania, questa fiammata di ritorno che riporta la paura del coronavirus anche in regione Campania. Vediamo appunto i numeri schematizzati da il Roma con tutti quanti i livelli di contagio dall'inizio della pandemia, regione per regione, con alcune regioni che fortunatamente sono covid free. Torniamo ancora su Roma, stretta sui treni, rivolta delle regioni, caos alta velocità, convoi locali, impossibile garantire le distanze, biglietti quasi introvabili per il sud. Una vera e propria emergenza nell'emergenza, quella dei collegamenti. Le persone vogliono, puntano sull'estate, su agosto, sul ferragosto per spostarsi, ma i collegamenti procedono a singhiozzo proprio per il rispetto delle norme. Anticontagio. Bonus consumi, pure per scarpe immobili, il governo studia l'estensione degli sconti a chi paga col banco, Matt. Pressing dei contribuzioni. Vediamo di cosa si tratta. Non ci sono dubbi, però, ma ci sono i dubbi, però, dei commercianti che dicono non penalizzare il contante e ridurre le commissioni POS. Ovviamente a carico dei commercianti ci sono anche le commissioni POS che rappresentano un disincentivo per un'eventuale estensione del bonus. E poi le imprese, in arrivo anche il rifinanziamento del fondo di garanzia per le PMI, per il settore delle automotive. Il governo dovrebbe stanziare 500 mila milioni di risorse, tra le misure e finanziamento dell'eco bonus, fino a 10 mila euro per l'acquisto delle auto meno inquinanti e l'ipotesi di stenderlo ai veicoli commerciali leggeri. Queste le misure antigrisi che mette in campo il governo italiano. Queste le notizie che abbiamo selezionato per voi da Il Roma. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere qual è l'apertura di Repubblica. Crisi di nervi nella Lega, quindi andiamo a guardare quello che è un vero e proprio caso. Zaia e Giorgetti sempre più distanti da Salvini. Il governatore irritato per le giravolte del leader sulla pandemia. Il rischio è quello di una scissione nel popolo del Carroccio. Da Lombardi e Veneti, no al partito nazionale. Governo 5 Stelle contro Spadafora, intanto per la riforma dello sport. Quindi è un agosto di passione per quelle che sono le scelte strategiche di indirizzo all'interno degli schieramenti politici. Taglio alto, vedete la freccia tricolore che corre, che vola, sfreccia sul nuovo ponte di Genova. È il giorno del ponte, adesso Genova prova a rinascere. Ma intanto ricordiamo anche le quattro vittime di Torre del Greco. Quattro ragazzi che andavano in vacanza. Tra questo anche battiloro un videomaker morto nel crollo del ponte di Genova. E proprio ieri suo padre con un post ha detto «Mio figlio non ha avuto giustizia». Vediamo. Ultimato in meno di due anni, un record per l'Italia delle opere infinite, il nuovo ponte di Genova tuttavia rappresenta per i familiari delle vittime il simbolo di una strage che resta ancora senza colpevoli. Oggi l'inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio, disegnato da Renzo Piano, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Delle 43 persone che trovarono la morte su quel ponte, quattro erano di Torre del Greco, quattro ragazzi che si trovavano lì per trascorrere le giorni di vacanza. Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Antonio Stanzione e Gerardo Esposito. Un avvenimento che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro paese e sul quale sono ancora in corso le indagini. Il padre del videomaker Giovanni Battiloro ha pubblicato oggi delle foto del figlio accompagnandolo da dure parole di denuncia. Giovanni aspetta sia fatta giustizia per il suo omicidio. Il primo pensiero di questa giornata è per chi non c'è più. Per le famiglie che aspettano giustizia, tutta l'Italia la pretende, perché quel ponte non doveva cadere e qualcuno dovrà pagare. I parenti delle vittime hanno deciso insieme di non partecipare alla cerimonia di inaugurazione. Non c'è niente da festeggiare, aggiunge il padre di Giovanni. A tutti noi suono offensivo che una società come Atlantia sia ancora coinvolta nella gestione della tratta autostradale e vogliamo ribadire che non ci sono partiti o politici nazionali o locali che se ne possono tirare fuori. Il processo sulle responsabilità, aggiungono i familiari delle vittime, è importante. Vogliamo che non termini, come purtroppo abbiamo visto terminare altre tragedie in Italia. Adesso la prima pagina del mattino nazionale. Riguardiamo insieme la cerimonia Genova due anni dopo il crollo. Come vedete, prima abbiamo visto il passaggio delle frecce tricolore. Qui l'arcobaleno che è spuntato all'improvviso proprio sul nuovo ponte. Mattarella che dice ferita ancora aperta. L'apertura intanto, pressione fiscale, il record è al sud, 47,8% del PIL finisce in tasse mentre al nord non si ferma al 46,7% il peso delle addizioni locali. Andiamo all'interno, guardiamo ancora l'arcobaleno sul nuovo ponte. Mattarella la ferita che non viene rimarginata a due anni dal tragico crollo. La morte di 43 persone, taglio del nastro per il San Giorgio, l'abbaraccio in privato del Presidente con i parenti delle vittime, rigorosi nell'accertare ogni responsabilità, promette il numero uno della Repubblica Italiana. Turni di 24 ore per finire in tempo, un solo giorno di riposo a Natale. Sono questi i numeri della tabella di marcia del ponte firmato da Renzo Piano che appunto nell'Italia, che sembra davvero l'Italia delle eterne incompiute, ha rappresentato un esempio virtuoso di come si possa costruire in tempi record e restituire dignità alle infrastrutture ferite appunto dal crollo e dalla tragedia. Sorpresa dai sierologici, che abbiamo argomento, gli italiani con gli anticorpi, sono un milione e mezzo. Questi i primi risultati del test. I dati del Ministero Istat, contatti con il virus, sei volte in più del totale dei casi registrati. In Lombardia la percentuale è più alta, con il 7,5% della popolazione. Lo screening sierologico comporta anche la realizzazione di una sorta di schema che fornisce quella che è la mappa, la mappa degli anticorpi, che risulta davvero preziosa in vista della recrudescenza del virus prevista per l'autunno con il ritorno delle influenze cosiddette stagionali. E poi l'alta velocità vuota, regionali pieni, il paradosso che allarma gli esperti. Parliamo dei collegamenti, dei treni, del grande caos per il grande esodo di Ferragosto che comunque ha visto grandi prove anche per luglio con Pregliasco che dice la situazione è pericolosa e il CTS prepara regole uniformi per i trasporti perché appunto si teme davvero l'assembramento selvaggio in vista dei grandi spostamenti per il ponte più atteso dell'estate. Crociere, MSC riprende il mare, tamponi per tutti alla partenza, l'estate del Covid-19, il turismo che si rimette in moto, le strategie da mettere in campo proprio per provare a scongiurare ogni rischio. La compagnia creerà una bolla sicura per tutto il viaggio sia in mare sia a terra. Verifiche all'imbarco, 30 minuti per l'ok per il personale. Controlli e niente sbarchi, così da isolare appunto il personale a bordo ed evitare che possa trasportare contagi pericolosi, rischi di infezione. Queste le notizie del mattino nazionale. Adesso apriamo un focus esclusivamente dedicato alla regione Campania. Partiamo con la Repubblica di Napoli, parla del caso Cardarelli invaso dalle barelle. Pronto soccorso nel caos, pazienti in coda, grande afflusso dopo il lockdown. L'ospedale va in affanno, ieri occupati persino i lettini delle sale operatorie. Davvero una via crucis per l'ospedale Cardarelli, il più grande del sud Italia, che ancora una volta finisce nel caos proprio per gli accessi record, accessi, molti di questi dovuti anche ai colpi di calore, agli anziani in difficoltà. Visto il gran caldo, ma non è l'unico caso che riguarda la sanità. Oltre l'inchiesta sui Covid Hospital, c'è stato un nuovo episodio di violenza, il 36esimo dall'inizio dell'anno. Questa volta a finire nel mirino dei Selvaggi, è stato un infermiere che lavora al presidio di Piazza Nazionale. La sua risposta di qualche lentezza con una donna gli è costata. Pugni al volto e anche un telefonino lanciato proprio al suo viso. Vediamo. Violenza negli ospedali, nuova aggressione a Napoli. Stavolta la vittima è un'infermiere del distretto di Piazza Nazionale, aggredito a pugni e spintoni durante il suo lavoro di triage. Gaetano, questo è il nome della vittima della nuova aggressione, il personale sanitario napoletano era impegnato nelle operazioni di controllo e filtro utenza per evitare assembramenti negli ambulatori e negli uffici. Un lavoro di stretto contatto con il pubblico, che lo vede impegnato ogni giorno, anche nel dare informazioni di ogni sorta agli assistiti. Stamattina, nel fornire spiegazioni ad una donna extracomunitaria, si è scatenato il caso. I disservizi per la connessione internet della rete aziendale hanno irritato la donna, che non ha ottenuto risposte tempestive. È bastato così poco per scatenare la sua ira. La donna ha iniziato a insultare l'infermiere e gli ha lanciato contro un cellulare che lo ha colpito al volto. Ma non è finita qui. La donna ha deciso di colpirlo anche a pugni. L'uomo ha chiamato i soccorsi. Subito sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale. L'infermiere ha rimediato un occhio gonfio e una prognosi di cinque giorni. Intanto non si ferma l'escalation di violenza a Napoli. 36 le aggressioni dall'inizio dell'anno, nonostante il lockdown. Indignazione e rabbia tra il personale medico e infermieristico, che chiede maggiori strumenti a tutela, come denuncia l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. I dati a confronto con quelli dello scorso anno preoccupano proprio in virtù dei mesi di allerta rossa per la pandemia, in cui comunque le richieste di aiuto si erano ridotte. Una vera e propria impennata di casi, quella registrata dopo la riapertura, dopo le prime settimane di maggio. Adesso vediamo insieme l'apertura di Napoli il mattino di sesto dema in bilico. Caccia i voti. Questa è la questione del bilancio in aula e il sindaco spera nel soccorso delle opposizioni. Questa è l'apertura di Repubblica Napoli. Caruso sulla casa natale, solo una targa, il parco, il suo onore non è mai nato. La memoria perduta, il lattaio con foto verticale che Giuliana Covella racconta di quella che è una vera e propria perla della Napoli, del mondo della cultura. Andiamo avanti. Contromano in tangenziale, così ho perso la mia Livia, il racconto in aula di quello che è stato un caso di cronaca che ha davvero sconvolto tutta Italia. 25 luglio 2015, DJ e la sua fidanzata a bordo di un areno Clio iniziarono una folle marcia in contromano, in contromano sulla tangenziale affari spenti, fino all'impatto in cui Livia perse la vita. Andiamo avanti. Con il default debiti congelati, XPM incandidabile per dieci anni, il caso di dissesto finanziario possibile, la coesistenza tra sindaco e commissario, le ricadute sociali che saranno pesanti, queste sono le vere e proprie grane a cui rischia di andare incontro il governo di Palazzo San Giacomo. Ma da Napoli ci spostiamo alle altre province campane. Partiamo con Avellino, vediamo qual è l'apertura. Si parla sempre del Comune, dell'amministrazione del Comune Capoluogo, Piazza del Popolo, si punta a comprare le case, record di domande per le assegnazioni. Non ci sono alloggi popolari per tutti, i privati hanno tempo fino a metà settembre per dichiarare la disponibilità a vendere. Quindi questa è la strategia per fare cassa e al contempo superare anche il vero e proprio sciogliere, il vero e proprio nodo degli abusivi nelle case. E poi taglio basso la storia Monica e Antonella, prima unione tra donne, unione civile, a Dariano Irpino. Una bella storia, hanno convissuto per cinque anni e finalmente hanno potuto coronare il loro sogno d'amore nel rispetto delle norme anti-Covid. Quindi un party ovviamente in cui non ci sono stati assembramenti. Intanto c'è la questione Landolfi, notizia dell'ultima ora del tardo pomeriggio. Mezza vittoria, il pronto soccorso riapre per gennaio. Ieri l'incontro tra De Luca, Vignola, Pelosi, sindaco di Serino e il sindaco di Montoro, Giacquinto, con il manager del Moscati Pizzuti. Strategia coordinata per ripartire subito con i lavori. 11 milioni e mezzo per rimettere in piedi pronto soccorso e rilanciare l'ospedale della Valle dell'Irno. Queste le notizie da Vellino, ci spostiamo adesso su Caserta per vedere quali sono le altre notizie. Contagiata dall'abbadante, anziana uccisa dal Covid, vi anticipavo in apertura di edicola. Dopo mesi di tregua il virus torna ad uccidere in terra di lavoro, 46 morti. La tragedia, la donna era già malata, era ricoverata nel Covid Hospital di Maddaloni. E poi ancora, la crisi non ferma il gioco d'azzardo. Locali chiusi e multe, corso alle sale delle slot, allarme della Caritas, Castelvolturno e Casale, i centri più coinvolti. E questi sono i controlli a raffica scattati proprio nella terra di lavoro, nella zona della Versano. Da Caserta ci spostiamo nel Sagno, sagno su cui ieri si è accesa la luce del Governo nazionale perché c'è stata una visita eccellente, quella del Ministro Bellanova che è arrivata a Guardia San Framonti, sede della Guardiense e il Consorzio a tutela e produzione del vino, del vino sannita. Vediamo come è andato l'incontro. Tenevo molto a ringraziare chi in questi mesi di paura ha lavorato per garantire normalità a questo paese e la filiera produttiva agroalimentare. Parte da qui il Ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, oggi a Guardia San Framonti, su invito di Italia Viva, in visita alla Cantina Sociale La Guardiense. L'agroalimentare è il settore del futuro. Chi non lo avesse capito prima ha avuto il Covid per rendersi conto che questo paese, insieme alla filiera sanitaria, è andato avanti, anzi ha garantito momenti di normalità grazie ai lavori umili dell'agricoltura. Immaginate che cosa sarebbe stato quando nulla era più normale avere anche un cambiamento delle abitudini alimentari perché questa catena si fermava. Questa catena è andata avanti e la filiera, io l'ho definita la filiera della vita, adesso va sostenuta ulteriormente. La viticoltura sanita e meridionale, le prospettive di sviluppo e di lavoro nel mezzogiorno, sono i temi dell'intervento della Bella Nova che ha puntato sulla sostenibilità economica delle imprese agricole che nel Sannio si troveranno a fare i conti anche con la violenta grandinata di sabato su cui Coldiretti ha lanciato l'allarme con il 50% dei raccolti distrutti e poi il paesaggio di Sannio a Falanghina candidato al riconoscimento di patrimonio UNESCO. Come si sostiene il riconoscimento a quest'area? Semplicemente vedendo la biodiversità che c'è qui, qui ci sono vigneti di eccellenza, vigneti che ci vengono invidiati anche nelle altre parti del mondo e noi dobbiamo riconoscere questo patrimonio, valorizzarlo sempre di più sapendo che c'è un investimento molto forte sulla viticoltura. Quindi i vigneti Sanniti, un'eccellenza, un patrimonio di biodiversità da tutelare a prova di Bollino UNESCO. E poi ancora vediamo al centro il calcio giallorossi, ipotesi a qua il Lecce in B avvicina la Padula quindi adesso entra nel vivo il calcio mercato per la ripartenza dalla massima serie del club giallorosso. Ancora cronaca, escursionisti nel dirupo, tre restano incastrati in notte con i soccorritori, l'allarme sul pentime lanciato dagli amici vigili del fuoco e 118 sul posto con i feriti. Davvero una notte al cardiopalma per i ragazzi ma anche per i soccorritori. Queste le notizie da Benevento, vediamo rapidamente anche quali sono le novità da Salerno. Negozi chiusi, ellite sugli orari, ristoratori con il lockdown, la città turistica si è spenta, le SOS, aperture prolungate ma che debbano essere anche flessibili. Pausa pranzo, niente shopping di sera, i commercianti, anno orribile, programmiamo il 2021. Ancora Covid, indagata la superdirigente dell'unità di crisi Santaniello e nell'ufficio di gabinetto alla regione, testimoni sentiti in procura sul ruolo di Cascone. Abbiamo visto l'inchiesta dei Covid hospital, tra in tutto in campagna, su cui la procura vuole vederci chiaro. Sangue sulle vie del vallo, muoiono due giovani, incidenti a sale e a polla, una vera e propria tragedia e il dramma di due giovanissimi che hanno perso la vita in altrettanti tragici impatti. Queste le notizie che arrivano dall'informazione cartacea, ma adesso andiamo a vedere quali sono le notizie in tempo reale dal portale 8pagine.it. L'apertura è dedicata ai numeri della campagna, sospiro di sollievo, solo quattro positivi in campagna. Guardiamo rapidamente le varie aperture delle varie province. Fessa, il Comune intitolerà un'area a Di Nunno, ex sindaco, il sindaco della città Giardino, il sindaco che ha voluto tanto verde in città, almeno ci ha provato a garantirlo. Benevento, cadono in un dirupo, abbiamo visto durante un'escursione, soccorritori in azione. Ancora Caserta con l'auto contro lo spartitato, traffico 22enne, gravissimo, è successo a Mondragone. Ancora l'allerta meteo, per oggi il Comune chiude i parchi a Napoli, c'è un'allerta meteo che ha imposto l'adozione di misure straordinarie. Buon abitacolo, piange il giovane Mario, un colpo durissimo, questo è il viso, il volto del giovane, uno dei due giovani salernitani che hanno perso la vita in incidenti stradali avvenuti davvero in poche ore e hanno straziato la comunità salernitana. E queste erano le notizie dall'informazione via web del portale 8pagine.it che chiudono l'edicola di 696 TV 8 Channel, vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione alle 11 in punto con il touch e un nuovo collegamento in diretta dal portale di 8pagine.it e alle 14 in punto con il TG News regionale. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti.